Buongiorno da BTV News. Oggi 5 maggio, Sant'Angelo da Gerusalemme. L'OMS dal 2005 ha istituito la giornata mondiale per l'igiene delle mani il 5 maggio di ogni anno, una ricorrenza fondamentale per ricordare l'importanza di questo semplice gesto, ma essenziale nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura, ma in generale nella vita di tutti i giorni. Mai come negli anni recenti, infatti, l'igiene delle mani assume una particolare relevanza e grazie a questa azione quotidiana che insieme ai vaccini, al distanziamento e all'impiego di mascherine, si è costruito un'argine efficace al coronavirus. Ma è sempre necessario mantenere alta l'attenzione e continuare a sensibilizzare ed informare sull'importanza di questa abitudine, sia negli ambienti sanitari che in tutti gli altri luoghi di vita. Grazie 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 Grazie